Le squadre mobili di Firenze e Caserta hanno arrestato 18 persone legate al clan dei Casalesi e coinvolte in un'inchiesta avviata dalla DDA di Napoli su infiltrazione della Camorra in Toscana. Le ordinanze d'arresto eseguite stamani nella nostra regione sono quattro, anche se ci sono altre sei persone residenti in Toscana destinatari di misura cautelare ma già in carcere. Le famiglie sono gli Siavoni, il Russo, gli Eiovine, sono i clan storici della provincia di Caserta. Ci sono sicuramente dei loro rappresentanti sul territorio. Per ora parliamo non esattamente della provincia di Firenze ma parliamo della provincia di Pisa e della provincia di Lucca. Nel corso dell'indagine è stato possibile appurare un giro di estorsioni nei confronti di imprenditori edili originari del Casertano ma residenti da anni a Via Reggio. Le richieste di soldi variavano tra i 5 e i 20 mila euro. Durante l'indagine è emerso anche il coinvolgimento di alcuni arrestati nella rapina del 18 giugno del 2012 nel Pisano a danno di un furgone del Securepol Group. Tra le attività illecite c'era anche lo spaccio di droga, in particolare cocaina. Gli stupefacenti arrivavano dalla Campania in Toscana tramite rete ferroviarie o per mezzo di un corriere, una rumena arrestata oggi a Firenze. Lo spaccio era gestito da Arturo Storico, basista della rapina di Pontedera, già in carcere. Nei guai sono finiti anche due poliziotti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso la Camera dei Deputati. Sono accusati di aver passato ai casalesi notizie riservate e coperte da segreto istruttorio. In particolare il pubblico ufficiale in servizio all'Ufficio Tecnico Logistico e Gestionale del settore sanitario della Presidenza del Consiglio è risultato in stretto contatto con affiliati di spicco del clan dei casalesi, attivi sia a Caserta che in Toscana. Si tratta di Franco Caputo e Cosimo Campagna. A casa di Caputo sono stati trovati numerosi tesserini della FIGC. A lui infatti avrebbe fatto riferimento anche un funzionario della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC Calcio. Caputo, sempre secondo gli investigatori, avrebbe anche fornito informazioni riservate riguardo il giro di false fideiussioni da 230 milioni di euro su cui ha indagato la Procura di Pescara. Le indagini, secondo indescrizioni, potrebbero incrociarsi con la vicenda degli appalti dell'Expo che vede coinvolto l'ex ministro Scaiola. Anche in quel caso, infatti, è emersa l'ipotesi dell'esistenza di una talpa che avrebbe fornito informazioni riservate all'ex ministro.